Buonasera, buonasera a tutti voi. Il dottor Vincenzo De Filippo è stato riconfermato presidente della Federfarma di Catanzaro a San Sostene Marina al via l'iter dei lavori per la realizzazione della scuola media tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha confiscato beni per un valore di 18 milioni di euro alla cosca Procopio sia Tripodi nella Soveratese. Vediamo. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro con riguardo alla confisca di un ingente patrimonio criminale. Il provvedimento giudiziario, divenuto ormai definitivo, avendo superato il vaglio della Suprema Corte di Cassazione, è relativo alla cosiddetta operazione showdown, scaturita dall'indagine della Procura della Repubblica di Catanzaro, ora diretta dal dottor Nicola Gratteri, condotta con il coordinamento dell'attuale procuratore aggiunto dottor Vincenzo Capomolla nei confronti di soggetti appartenenti alla cosca di Indrangheta Procopio sia Tripodi e Gemone nell'area del Soveratese. L'indagine, culminata inizialmente nel dicembre 2011 nel fermo di indiziati di delitto anche per il reato di associazione di tipo dranghetistico e altri reati, e nel sequestro d'urgenza di un rilevantissimo compendio di beni, cui seguivano successive misure cautelari personali e reali, poneva fine ad una complessa vicenda criminale finalizzata al controllo criminale ed economico del territorio del basso Ionio Catanzarese, caratterizzata da eventi omicidiari di efferata crudeltà. Gli accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri del nucleo di Catanzaro, eseguiti mediante la capillare meticolosa ricostruzione degli articolati assetti societari, delle principali operazioni finanziarie poste in essere, il conseguente incrocio dei dati con le risultanze dell'attività tecnica e dell'attività info-investigativa, svolta sul territorio di riferimento, consentivano di ricostruire gli interessi economici della cosca realizzati mediante il ricorso a schermi societari e a fittizie e intestazioni di beni e attività economiche. La sentenza, ora in esecuzione per il profilo patrimoniare, oltre a riconoscere in capo a numerosi imputati la responsabilità penale per vari reati loro rispettivamente ascritti, dall'associazione di stampo mafioso all'interposizione fittizia di beni ai reati in materia di spaccio di stupefacenti, disponeva alla confisca del patrimonio per un valore complessivo stimato in circa 18 milioni di euro, patrimonio costituito da svariate quote societarie, beni mobili e immobili ubicati nella provincia di Catanzaro, così come attività economiche costituite da titte individuali, nonché da società a responsabilità limitata, e la quota parte della metà di un villaggio turistico in fase di realizzazione, denominato San Sostene Resort, sito a pochi chilometri da Soverato. La Guardia di Finanza di Vibo Valencia ha individuato 5 piantagioni di canapa indiana nel territorio di Fabrizia. Vediamo. Un'area isolata, grazie ad un'operazione di servizio originata dalle ricognizioni aeree effettuate dagli elicotteri della sezione aerea di Lamezia Terme, che nell'ambito di una mirata campagna di osservazione del territorio, hanno individuato nel comune di Fabrizia alcune coltivazioni sospette tra la fitta vegetazione che ricopre le alture e le strette valli della zona delle Serre Vibonesi. Così il Comando Provinciale di Vibo Valencia ha organizzato tramite il gruppo di Vibo un intervento a cui hanno partecipato aliquote della stazione navale di Vibo Valencia, dipendente dal Roan della sede di Vibo e considerata la prossimità delle zone, a limite del confine provinciale regino, dalla sede di Roccella Ionica, tratte dalla sezione operativa navale omonima. I militari, coadiuvati da un elicottero della sezione aerea di Lamezia in funzione di appoggio e di ricerca di ulteriori siti della specie, hanno battuto l'area interessata risalendo i pendì e individuando complessivamente, in un contesto privo di sentieri e indicazioni, una rudimentale rete di irrigazione a cui erano collegate ben cinque piantagioni di canapa indiana, occultate dalla vegetazione e di difficile accesso. Al termine di una giornata di ricerca complicata dalle condizioni dell'area e dalle alte temperature di questi giorni, i finanzieri hanno estirpato ben 268 piante, poi distrutte in accordo con l'autorità giudiziaria di Vibo e acquisito elementi per le successive indagini tese a individuare i responsabili. Le piante eliminate avrebbero potuto garantire guadagni illeciti fino a 250 mila euro. Per anni minacciano un sessantenne per rapinarlo, sono stati arrestati due giovani a Lamezia, vediamo il servizio. Per anni avrebbero presso di mira un sessantenne, sempre con lo stesso modus operandi, lo avvicinavano lungo le strade del centro cittadino e dopo averlo minacciato con un coltello, si facevano consegnare piccole somme di denaro. I carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle indagini svolte nei confronti di due giovani lametini, Giuseppe Mastroianni e Antonio Mancuso, entrambi 29 anni, responsabili di svariati episodi di rapina commessi dal 2013 al 2018. Una vessazione continua, durata per anni, in un crescendo culminato la notte dello scorso 15 dicembre, quando i due si introdussero nell'abitazione dell'uomo e dopo averlo selvaggiamente picchiato con calci e pugni e rovistato tutta la casa, fuggirono con l'unica cosa di valore trovata, il portafogli della vittima contenente poche centinaia di euro, lasciandolo sanguinante sul pavimento. Solo a seguito di questo ultimo episodio l'uomo ha avuto la forza di denunciare tutto ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per arrestare Mastroianni e Mancuso. Consumo di alcol tra i giovani controlli nel Regino. Ci sono state denunce, sanzioni e patenti ritirate. Sentiamo. Durante la notte tra sabato e domenica i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Cittanova in occasione di un evento organizzato nel territorio e attrattivo di centinaia di giovani, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e al contrasto delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica. Il servizio, svolto dalle stazioni carabinieri di Cittanova, Polistena e Cinque Frondi, ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza di cinque persone e al contestuale ritiro delle patenti. Nel corso dei controlli stradali disposti per scoraggiare il consumo di alcol fra i giovani guidatori, infatti, un 19enne di Rosarno è stato fermato alla guida in evidente stato di alterazione e sottoposto ai previsti accertamenti il risultato positivo agli esami alcolinici con un tasso superiore all'1,5. Stesso esito hanno avuto i controlli nei confronti di un 18enne, un 19enne e un 21enne di Taurianova, nonché di un uomo di 42 anni di San Pietro di Carità, tutti sorpresi alla guida, con un tasso alcolemico superiore al consentito. I cinque sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza. Dovranno rinunciare alla patente, ritirata dai carabinieri per un periodo compreso tra sei mesi e due anni e dovranno pagare una multa da 500 a 6.000 euro, oltre alla condanna penale. Nel corso della notte sono state controllate complessivamente 54 persone e 23 mezzi ed elevate altre sei sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Tale servizio rientra nella più ampia azione di contrasto dei carabinieri della compagnia di Taurianova contro i reati predatori nel territorio, il porto di armi o oggetti atti ad offendere e la prevenzione e repressione delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica dei giovani, soprattutto nel fine settimana. Queste ultime potenziale causa di gravi incidenti stradali. Alla mezza tre donne sorprese a rubare aggrediscono la commessa, sono state denunciate, vediamo. Con la complicità della fiera di Sant'Antonio e del via vai della gente, tre donne hanno ben pensato di attuare un furto in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi di via Federico Nicotera, all'ora di chiusura. Colpo finito male perché dopo essere state scoperte hanno proceduto al pagamento dei capi di abbigliamento che precedentemente avrebbero cercato di sottrarle illecitamente. Quando sembrava essersi tutto risolto le tre, da quanto si apprende siciliane di etnia Roma, in città per via della fiera, hanno ben pensato di scagliarsi contro la commessa che le aveva notate mentre cercavano di occultare la merce, colpevole a loro parere di aver fatto la spia. Sul posto la polizia di Stato, guidata dal dirigente Alessandro Tocco, che, allertata dai proprietari dell'attività, ha visionato le registrazioni delle telecamere riuscendo a cogliere le tre sul fatto. Le donne che avevano tentato di dileguarsi nella folla sono state identificate e denunciate per lessioni. Il negozio era già stato oggetto di furto nei mesi scorsi. Sorpreso a pescare ricci sul lungomare di Crotone, è stato multato un 55enne. Vediamo. Ammonta a 4.000 euro la sanzione amministrativa combinata ad un cittadino crotonese, sorpreso dai militari della Capitaneria di Porto a pescare esemplari di riccio di mare lungo il litorale della città pitagorica. Il 55enne era intento a pulire con cura i preziosi echinodermi, al fine di riempire dei vasetti che, con ogni probabilità, sarebbero poi stati venduti per trarne il lecito profitto. Il litorale è storicamente riconosciuto quale inestimabile bene ambientale e caratterizzato da un prezioso ecosistema marino, di cui i ricci di mare ne costituiscono un valore aggiunto. Oggi più che mai necessita di un'accurata preservazione, al fine di evitare che l'attività antropica e a maggior ragione quella non autorizzata ne provochi un repentino e incontrastabile declino e proprio al fine di tutelare l'ecosistema marino che il prodotto ittico ancora vivo, a seguito di sequestro, è stato rigettato in mare. Incidente stradale a Caminia. Sono state coinvolte tre auto. Tre sono i feriti. Vediamo. Un incidente stradale si è verificato ieri sera sulla strada statale 106 in prossimità dello svincolo, località Caminia-Pietra Grande, nel comune di Staletti. Tre le vetture coinvolte. Una lancia Ypsilon che a seguito dell'impatto si è ribaltata, una Ford Mondeo e una Ford Vignale. Tre i feriti, fortunatamente lievi, attualmente in cura dal personale sanitario del 118. Forti i disagi per la viabilità. Nel tratto interessato si è proceduto su un'unica corsia a senso alternato. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per gli accertamenti circa la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, di staccamento di Soverato, necessari per mettere in sicurezza le auto in attesa del soccorso stradale e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata. Staletti, tutela dell'ambiente e sostenibilità del territorio, grazie ad una collaborazione tra amministrazione e consorzio di bonifica. Sentiamo i particolari. Continua l'attenta attività di manutenzione del territorio, operata con costanza e dedizione dagli amministratori del comune di Staletti. Un maggiore attivismo al servizio della propria popolazione è stato garantito dalla collaborazione ottenuta con il consorzio di bonifica Ionio Catanzarese. Difatti, come dichiarato dal delegato ai lavori pubblici, ambiente e territorio del comune Ionico, Francesco Fragomele, alle porte della stagione estiva siamo riusciti a garantire uno sforzo maggiore per rendere all'intero territorio di Staletti il valore, il decoro e la vivibilità che merita. Dobbiamo ringraziare per l'impegno e l'ammirabile disponibilità profusa il presidente del consorzio di bonifica, Grazio Somanno, nonché il direttore dei lavori del consorzio, Ingegner Michele Curcio. Infatti, grazie ad una nuova collaborazione tra i due enti, si è riusciti ad assicurare l'intervento di un mezzo meccanico di proprietà del consorzio, messo a disposizione per la pulizia e la bonifica di ampie aree del territorio comunale interessate da eccessiva vegetazione infestante, difficilmente gestibili con i mezzi tradizionali. I lavori hanno inoltre interessato la maggior parte delle strade interpoderali e comunali con alto indice di traffico, considerate in alcuni casi arterie principali per l'ingresso in paese e dalle zone marine. Il lavoro meticoloso di salvaguardia del territorio messo in campo con grande sforzo dall'amministrazione comunale di Staletti ha già ottenuto grande riscontro tra i cittadini e i primi vacanzieri, battezzando un ulteriore successo di questa squadra di governo allo scadere del primo anno di mandato. Conclude Fragomele, abbiamo la fortuna di avere posti incantevoli che la natura ci ha consegnato in custodia come ricchezze da gestire e mantenere e noi ci impegneremo al massimo per dare alla natura e a tutti coloro che vivono in nostro territorio ciò che meritano. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Riprendiamo l'informazione. Il dottor Vincenzo De Filippo è stato riconfermato presidente della Federfarma di Catanzaro. Vediamo. Vincenzo De Filippo è stato confermato per un nuovo triennio alla presidenza di Federfarma Catanzaro e l'esito della riunione con cui ieri si è insediato il consiglio direttivo dell'Associazione Provinciale, rinnovato sabato e domenica scorsi dall'Assemblea elettiva degli iscritti. Il consiglio direttivo per questo nuovo mandato è così composto. Presidente dottor Vincenzo De Filippo, vicepresidente dottor Luciano Leone, segretario dottor Stefano Raspa, tesoriere dottor Santi Salvatore Apollo, consiglieri dottor Riccardo Durante, dottor Vitaliano Corapi, dottor Danilo Triminì, rappresentante rurale dottoressa Maria Cristina Murone. Ringrazio ancora tutti per la fiducia accordata, commenta De Filippo. Siamo tutti pronti a lavorare per un altro triennio con l'obiettivo di rafforzare la farmacia del territorio e darle sempre nuovi contenuti. In conclusione, sono certo che la rete delle farmacie e i professionisti che in esse vi operano hanno tutte le potenzialità per consolidare il proprio ruolo primario nell'ambito del Servizio Sanitario e Federfarma Catanzaro attraverso i suoi rappresentanti associati moltiplicherà i propri sforzi per assicurare il conseguimento di tutti questi importanti obiettivi. L'auspicio mio e dei colleghi è che le autorità competenti e mi riferisco soprattutto ad Asper Regione condividano i nostri sforzi e facciano tutto ciò che è il loro potere per valorizzare a pieno le nostre grandi potenzialità. Ha soverato la riunione con gli ecocontadini. Vediamo il servizio. Il Consorzio di Produttori Agricoli Le Fattorie delle Serre Calabresi ampli e consolida la propria organizzazione e i soci si sono riuniti nei giorni scorsi a Soverato sotto la presidenza di Carmelo Bova e dell'ispiratore del progetto il noto giornalista Domenico Cosentino. All'ordine del giorno le prossime iniziative finalizzate a rafforzare la rete di ecocontadini che hanno trovato nel Consorzio l'alveo naturale attraverso il quale promuovere l'amore per il lavoro e per la terra. Il 30 di giugno sul Tirreno adesso scenderemo se seria Francavilla o Monterosso oppure Filadelfia dove fare il nostro primo congresso che sarà un congresso non solo dal punto di vista organizzativo ma anche politico dove vogliamo andare come anche economico perché ormai i prodotti ci sono gli agricoltori pure lavorano molto bene biologicamente e naturali e poi dobbiamo trovare i mercati. Un bel gruppo che porta avanti una Calabria che lavora corretto, onestra con prodotti eccezionali e quella che meriterebbe che avesse più successo anche fuori con i suoi prodotti. Ebbè diciamo che è stata una bella esperienza fatta con delle persone che prima di tutto sono diventate degli amici e degli amici che mi hanno aiutato a portare avanti questa idea di progetto che adesso si è concretizzata, che sta iniziando a lavorare quindi un ringraziamento va fatto a loro in primis va fatto a Domenico Cosentino che ci ha dedicato molto impegno e pazienza e a tutti quanti gli agricoltori che con i loro prodotti hanno iniziato a mettere le basi per promuoverli e per far conoscere una parte di Calabria bella, importante, che lavora e che fa soprattutto prodotti di qualità quindi un grazie va soprattutto a loro. A San Sostene Marina al via l'iter dei lavori per la realizzazione della scuola media vediamo Sorgerà in via gentile di fronte alle strutture scolastiche già esistenti nell'area attualmente adibita a verde pubblico l'edificio scolastico che sarà destinato ad ospitare le classi della scuola secondaria di primo grado è stata infatti avviata la pratica per l'accensione del mutuo con la cassa depositi e prestiti e predisposta alla gara per l'affidamento dei lavori a dare impulso all'iter era stato l'inserimento dell'intervento di realizzazione dell'edificio scolastico nell'elenco delle opere pubbliche relativamente all'anno 2019 per un importo di quasi 600 mila euro una somma importante cui l'amministrazione comunale avrà accesso grazie appunto alla contrazione di un mutuo con la cassa depositi e prestiti un'opera pubblica fondamentale per dotare la cittadina ionica di tutti gli spazi necessari alla popolazione scolastica e al pieno e funzionale svolgimento delle attività didattiche Noi abbiamo dato sempre molta importanza dico sempre alla sostanza molta importanza alla cultura negli anni abbiamo messo in sicurezza della scuola abbiamo ampliato edifici scolastici ora addirittura ne realizziamo uno nuovo in modo che scuola materna avrà un suo edificio la scuola elementare avrà un suo edificio in quelli attuali e la scuola media avrà un suo edificio quello che noi realizzeremo una struttura di circa 500-600 metri quadrati con una sala conferenza molto importante che potrà essere utilizzata anche per motivi culturali e istituzionali dal comune ma soprattutto tante aule a norma con sistemi di sicurezza moderni per una scuola che sta crescendo perché alcune scuole che sono state soppresse negli altri territori hanno portato le famiglie a chiederci l'intervento anche attraverso lo scuolabus per poter soddisfare le loro esigenze e venire alla scuola di San Sostene io penso che non c'è comune saggio se non si porta avanti l'aspetto culturale soprattutto l'aspetto della sicurezza e l'aspetto scolastico che riveste un momento molto importante nell'economia e nella socialità di una comunità e noi stiamo cercando di fare quelle attività quelle opere che sono essenziali perché i servizi sono importanti quanto altre opere magari di valenza estetica e basta quindi è una struttura assolutamente nuova che viene ad essere collocata sempre in via gentile di fronte alle attuali scuole vicino la chiesa vicino l'aria verde attrezzata e il campetto quindi tutte strutture che potranno anche essere servite per la scuola anche ieri il campetto in erba sintetica che noi abbiamo realizzato è stato sfruttato dagli alunni della scuola su richiesta del dirigente scolastico quindi diciamo che è una sinergia piena comune istituzioni scolastiche e questa collaborazione necessita certamente delle strutture nuove e un approfondimento della parte culturale della comunità e del comune stesso Il legame antico e sacro tra Calabria e Ulivi nel libro di Ranieri e Vatrano è stato presentato a Scolacium il libro L'olio d'oliva tra storia archeologia e scienza Un legame antico e sacro unisce la Calabria e gli alberi d'olivo lo spiegano bene nel loro ultimo libro l'archeologa Bacchita Ranieri e l'agronomo Thomas Vatrano il volume L'olio d'oliva tra storia archeologia e scienza è stato presentato dagli autori nella suggestiva cornice del museo di Scolacium a Borgia L'ispirazione è nata dalla mia compagna dall'archeologa Bacchita Ranieri la quale mi ha coinvolto diciamo in questo viaggio un viaggio durato circa un anno e due mesi un viaggio veramente nella nostra Calabria da Reggio Calabria fino agli ultimi paesi della Calabria fino a Canna per riscoprire una varietà antica la nostrana di Canna un viaggio veramente interessante veramente tra archeologia e scienza opera divisa in due parti la prima curata da Bacchita Ranieri evidenzia la realtà storica dell'olivo fin dall'antichità più remota con digressioni nella letteratura negli aspetti simbolici rituali di costume e nelle tradizioni nella seconda Thomas Vatrano si concentra sulla produzione e l'impiego dell'olio in età contemporanea spaziando nella botanica nella chimica nelle pratiche di commercio e nell'arte culinaria si ripartendo proprio dalla Magna Grecia facendo un excursus dai greci romani partendo anche dalle fonti storiche archeologiche abbiamo trattato questo tema di archeologia inerente all'olio d'olivo gli antichi contenitori le anfore da trasporto le lucerne particolarmente dettagliato il capitolo conclusivo sul germoplasma olivicolo clabrese con una serie di schede varietali contenenti informazioni sulle aree di coltivazione nonché sulle caratteristiche sensoriali e qualitative dell'olio molto suggestivo dunque il ponte di collegamento tra le due sezioni del libro dall'olio prodotto e commerciato in Calabria già 3500 anni fa come evidenziano le risultanze archeologiche di broglio di tre bisacce al loro verde dei tempi moderni fulcro e pilastro della dieta mediterranea dal sacro albero di Atena taumaturgico che guarisce e protegge alla recente scoperta delle proprietà salutari dei polifenoli benefici nella cura di diverse malattie fu grazie ai greci ricorda Bacchita Ranieri che l'olivicoltura ebbe la sua massima diffusione nelle fiorenti colonie del sud Italia e in tutto il Mediterraneo e di fama eccelsa godettero gli oli di Med Materina Caolonia Locri e Crotone anche i romani apprezzarono il nostro olio per le sue eccelse virtù moltissimi infatti gli autori latini citati con le loro opere Catone Varrone Columella Virgilio Plinio un libro dunque completo esaustivo di facile comprensione che merita di essere studiato e approfondito in tutte le sue parti Futuro al lavoro il 22 e la regione faccia sentire la sua voce vediamo una manifestazione unitaria che è il punto di partenza per un futuro fatto di tanti progetti delle sigle sindacali Futuro al lavoro questo è il tema del 22 giugno manifestazione alla quale i sindacati hanno invitato anche i sindaci le province e il presidente della regione sì io penso che l'appuntamento del 22 giugno sia un appuntamento di grande straordinaria importanza per il mezzogiorno per il sud ma in particolare per la Calabria riteniamo che le tematiche che questo governo i provvedimenti che questo governo ha affrontato non soddisfano l'Italia ma non soddisfano il mezzogiorno il mezzogiorno è sparito dall'agenda politica nazionale non si parla di mezzogiorno non si parla di sud non si parla di Calabria e quando chiediamo alle forze politiche alle forze di governo come mai un argomento così importante non viene trattato non viene considerato ci dicono che sarebbe superfluo trattare il mezzogiorno perché il mezzogiorno fa parte dell'Italia e quindi è coinvolto automaticamente nelle dinamiche di crescita e di sviluppo del paese secondo noi invece è un mero tentativo per eliminare la questione meridionale dal dibattito politico nazionale non ci convince non ci convincono i provvedimenti di quelli del governo non ci convince il reddito di cittadinanza che è stato per noi un grande grandissimo flop si poteva potenziare il REI che era uno strumento di vera lotta all'esclusione sociale con una dote finanziaria un po' più ampia allargando le maglie della ridistribuzione quindi qualificandolo un po' di più e vi ricordo che il REI è nato grazie a un grande grandissimo confronto di concertazione di dialogo tra le istituzioni le parti sociali e il governo tantissime sono le richieste in questi giorni presso i nostri uffici di gente che vuole rinunciare al provvedimento perché è inconsiderevole la somma percepita quindi totalmente diversa da quelle che erano le aspettative non ci convince quota 100 si poteva pensare di più ai giovani sui quali pesano carriere discontinue si poteva pensare di più alle donne avevamo chiesto di riconoscere un anno di maternità per ogni figlio non è stato così quindi il 22 giugno ci troveremo tutti insieme CGL e Cisleguil per dare un grande segnale alla Calabria ma all'intero paese alle istituzioni e alla politica perché insieme a CGL e a Cisleguil vogliamo creare le vere condizioni di crescita di sviluppo e di lavoro in questo paese in questo territorio e nella regione Calabria ci spostiamo ora a Taormina per vedere questo servizio sul Taormina Film Fest con i premi firmati da Laura Fomi che le ha affidato premio Tauro d'Oro alla carriera Matthew Modin Una location straordinaria per presentare un evento straordinario Beh, un evento importante il secondo festival in Italia per età la 65esima edizione è un festival costruito per dare una prospettiva molto più ampia un festival internazionale con oltre 70 titoli con tante anteprime mondiali tante anteprime nazionali tanti ospiti da Nicole Kidman a Julia Ormond a Bruce Beresford ad Octavia Spencer a Richard Dreyfus ad Oliver Stone presidente di giuria ci sarà la giuria documentari la giuria future dei film in competizione ci sarà il center stage un campus che darà la possibilità e tanti giovani di avvicinarsi a questo meraviglioso mondo quindi avere gli addetti ai lavori a stretto contatto e abbiamo ripreso i premi istituiti da Rondi nel 1970 abbiamo il nostro maestro Orafo Michele Affidato che curerà la realizzazione di questi meravigliosi premi dalla maschera di Polifemo al premio Cariddi insomma abbiamo costruito un festival per tutti per avvicinare il più possibile la gente al cinema e far vedere delle opere che difficilmente si ha la possibilità di vedere i premi sono realizzati dal maestro Orafo Michele Affidato li potete ammirare e vedere abbiamo aggiunto anche sezioni non compute 65esima edizione del Taormina Film Fest un festival internazionale del cinema un festival che ha pensato al maestro Orafo Michele Affidato per la realizzazione dei premi si un festival importante un festival che mi vede protagonista con la realizzazione dei premi e questo veramente mi fa piacere poter legare ecco il mio nome a questo fantastico evento alla città di Taormina al mondo del cinema il Taormina Film Festival per l'occasione il secondo anno consecutivo che realizzo il Taormina Award per l'occasione ho realizzato gli otto premi alla carriera del Taormina Award che consiste in una scultura dove ho raffigurato una pellicola cinematografica e poi la moneta dove è stato inserito il toro dove prende il nome della città di Taormina e ho realizzato anche i premi per il caridi d'oro il caridi d'argento che viene dato premio alla professionalità e poi anche la maschera di Polifemo quindi anche altri premi che quest'anno si aggiungono a quelli diversi che ho realizzato lo scorso anno e consistono in un basilio d'argento con foglia oro la cui sceneggiatura è tratta da un romanzo invece inglese del 1905 scritto da Hitchens che era un inglese che vive sì innanzitutto c'è appunto questa edizione molto bella perché è un anno che si lavora questo significa programmazione la programmazione paga sempre questo penso che debba suggerirci di chiudere il 6 il 7 di luglio e immediatamente partire almeno con una programmazione triennale l'altro elemento è che la città questa volta viene coinvolta avremo particolari addobbi particolare coinvolgimento del centro storico perché vogliamo sottolineare il fatto che Taormina diventa protagonista Taormina città protagonista anche del suo festival e questo viene sottolineato dalla proiezione fatta il primo giorno il 30 di giugno di un film girato a Taormina interamente a Taormina esattamente 100 anni fa un film muto di produzione francese questo per avvicinare i cittadini al festival e il festival ai cittadini che voglio sottolinearlo è l'unico festival di Taormina nessuno si permetterebbe mai di organizzare anche soltanto un'iniziativa secondaria a Venezia o a Cannes senza voler fare paragoni ovviamente impropri ma nessuno si permetterebbe lì di chiamare una serata o un'iniziativa con le parole cinema o film visto che c'è un festival ufficiale dedicato al cinema e questo qui invece avviene e noi lo dobbiamo assolutamente eliminare questo è l'unico vero festival ed è l'unico che può denominarsi così io che saluto a Roma non ci conosciamo ma passeremo una settimana insieme quindi Rossio mi raccomando coordiniamoci sugli abiti ci occupiamo ora di una manifestazione sportiva che si è svolta a Disca sullo Ionio molto partecipata la manifestazione sportiva che si è tenuta a Disca sullo Ionio nell'ambito del progetto Regalami un sorriso un evento organizzato al fine di raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino per persone speciali sentiamo le interviste realizzate da Franco Laganà Mino e Gianne due disabili che hanno partecipato a questa importante manifestazione Mino quale sono le due sei contento per questa manifestazione? sì sì anche perché ci siamo proposti un obiettivo importante che è l'acquisto di un mezzo per essere più autonomi e voglio ringraziare Emma che è la vicepresidente dell'associazione APS la Casa del Sole che mi ha sostenuto per questa iniziativa che è lodevole e poi devo dire che il paese il mio paese di Giscas è interamente mobilitato per questa iniziativa ed è stato ed è il paese mio che è stato sempre vicino a me in ogni bisogno che io ho che io ho il paese mi è sempre vicino Gianne anche tu contento per questa iniziativa ti ha portato Piero Calio insieme a Piero Calio mi ringrazio tantissimo per questa iniziativa e speriamo che il prossimo anno ne faccia un altro bisogna raggiungere l'obiettivo per raccogliere fondi per comprare un pulmino per voi mi ringrazio tutti buonasera Giuseppina a noi una bella manifestazione e siamo stati insieme i disabili e i cittadini di Isca sì non ci aspettavamo che partecipassero così numerosi siamo contentissimi perché questo ci fa capire quanto la sensibilità della gente verso questi ragazzi e verso questo progetto sia grande speriamo di raggiungere il nostro obiettivo che è quello di acquistare questo mezzo di trasposto per questi ragazzi al più presto e ringrazio e ringrazio Emma perché mi ha fatto collaborare seguiranno altri eventi il prossimo evento sarà quello del 18 a Sant'Andrea sullo Ionio ci sarà una commedia e poi il 18 assoverato a teatro comunale con una commedia di Nino Gemelli basta basta e suverchia e poi seguirà assoverato un triangolare di calcio tra le vecchie glorie del Catanzaro del Cosenza e del Crotone Sindaco l'amministrazione comunale è vicina a questa iniziativa sì l'amministrazione comunale è vicinissima a questa iniziativa devo dire è un evento che mi ha fatto emozionare tantissimo perché ho visto i miei cittadini scendere tutti quanti in strada mobilitarsi per questa lodevole iniziativa alla fine mi hanno mi hanno convinto a partecipare pure io anche se dall'abbigliamento non si direbbe e devo dire che è stata veramente una passeggiata piacevole dove abbiamo superato il caldo la stanchezza e tutto quanto una corsa di solidarietà una corsa per raggiungere un grande obiettivo quello di acquistare un mezzo di trasporto per i nostri amici speciali e come dicevo prima prima dell'inizio della gara è una gara dove già solo a partecipare si vince quindi spero che si continui verso questa direzione perché attorno a questa iniziativa è divampato un incendio e di questi incendiosi si sta sentendo il calore e si sente sempre di più quindi ancora grazie a tutti coloro i quali hanno voluto fortemente questa iniziativa e a tutte quelle persone che stanno collaborando e contribuendo Matozzo Presidente del Consiglio Comunale di Soverato Soverato vicino a queste importanti iniziative si si importantissima iniziativa parte soprattutto con lo sport è una cosa importantissima da quando è partita questa collaborazione tutti quanti del Comune di Comune di Soverato e amministrazioni ci siamo messi subito all'opera perché è un evento molto importante soprattutto per la riuscita di questo progetto che sono fiducioso si arriverà oggi è stata una bellissima manifestazione hanno vinto tutti quanti queste persone speciali ci hanno messo veramente il cuore io sono rimasto veramente sbalordito dalla voglia che avevano di arrivare al traguardo hanno partecipato tutti quanti anche a fare delle piccole passeggiate però voglio dire è un punto di aggregazione che serve anche questo per risolvere determinate problematiche e Gesù è un punto di aggregazione che si riempi per ris Gedanken di salire hai un punto di aggregazione SV윗 Grazie. 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 Una pausa a tutti i corridori. Grazie. 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 Bene, tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.